Buonasera, benvenuti a 7.30. Stasera parliamo di legge 3, la legge per il sovraindebitamento poco conosciuta ed è per questo che è tornato con noi l'avvocato Lettiero Stracuzzi. Buonasera, Presidente di Protezione Sociale Italiana. Allora, innanzitutto le chiedo subito perché noi ci eravamo visti per un fatto di cronaca legato proprio alla storia di un imprenditore che era stritolato dai debiti e quindi aveva messo in atto un gesto in consulto. La legge 3 nasce proprio per questo, è poco conosciuta, ma di fatto di cosa si tratta? Ma la legge 3 del 2012 ha introdotto in Italia il procedimento di composizione della crisi. È un procedimento giudiziale che si basa su un principio fondamentale, credo di diritto e anche di, è un principio anche sociale, cioè dire io debitore riesco a pagare i debiti nella misura in cui mi è possibile, tenendo conto di quello che mi occorre per mantenere me e la mia famiglia, il resto dei debiti che non riesco a pagare mi devono essere cancellati perché io ho diritto a ricostruirmi una vita. Questo è il principio sintetico su cui ruota tutta la legge 3 del 2012. Per fare un esempio a livello, poi così, da un punto di vista imprenditoriale e di società, è paragonabile a quello che è la richiesta di fallimento di un'azienda, di un SRL? Sì, diciamo sì, è assolutamente paragonabile anche perché, detto brutalmente, la legge 3 del 2012 introduce quello che è il fallimento o la bancarotta della persona fisica. Quindi anche la persona fisica può andare in bancarotta, può fallire e quindi ha diritto poi ad ottenere la cancellazione, l'esdebitazione di quelli che sono i debiti che non riesce a pagare. Ecco, senta, non è una qualche scappatoia strana che viene messa in atto da qualcuno che ci promette di cancellare i debiti, poi invece alla fine paga un sacco di soldi a qualche professionista e poi si ritrova tutti i debiti, più avendo pagato i soldi? No, 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 non è una scappatoia, è un principio di diritto potente che riequilibria quello che è la dialettica tra creditore e debitore. Una dialettica che vede sempre il debitore dalla parte del più debole, quello che è costretto a subire angherie prepotenze da parte del creditore che in nome del credito che vanta pensa di poter fare di tutto e tra tutto dico ad esempio bussare a casa delle porte, minacciare il pagamento o addirittura intimare il pagamento anche con gridando perché molto spesso ci chiamano dei clienti che dicono sono arrivati a casa minacciando e addirittura gridando per ottenere di rientrare del debito addirittura con cambiali infinite lì che durano per 10-20 anni. Ebbene non è più così, è finita, adesso il debitore può accedere a questa legge e può ottenere la cancellazione dei debiti. C'è di mezzo però il tribunale in tutto questo procedimento, quindi è proprio per questo che è qualcosa di legale e di riconosciuto, è una legge dello Stato? Assolutamente sì, non è una falsa promessa del cosiddetto saldo estralcio, no, è un principio, come vi ho detto, è una procedura di carattere giudiziale, tenete presente che la competenza è del tribunale fallimentare, quindi lo stesso tribunale che poi è chiamato a dichiarare il fallimento delle aziende, quindi è una procedura scritta, chiara, che si basa su parametri matematici e che quindi deve confortare e rassicurare il debitore in quanto tutto è scritto, tutto è previsto dalla legge e quindi il debitore non deve fare altro che esercitare un diritto previsto da una legge dello Stato. Ecco, quindi sostanzialmente il debitore affronta una procedura che finisce con la decisione di un giudice del tribunale. Assolutamente sì, il debitore accede alla legge, può accedere tramite gli organismi di composizione della crisi costituiti presso il territorio, chi sono gli organismi? Sono proprio quegli enti pubblici accreditati presso il Ministero di Giustizia a cui il debitore può rivolgersi addirittura senza l'assistenza di un avvocato e che hanno proprio il compito di valutare la domanda del soggetto, se la ritengono meritevole di nominare un gestore della crisi, che è un professionista, anch'esso iscritto all'albo e anch'esso iscritto al registro del Ministero di Giustizia, che ridigerà una proposta di piano, una proposta di uscita dal debito, la assevererà e la trasmetterà al giudice affinché la valuti e apra la cosiddetta decreto di apertura della procedura. Quindi passaggi molto codificati, molto chiari, in cui c'è poco spazio a margini di errore e a margini interpretativi. Diamo qualche indicazione precisa, perché capisce che chi è oberato dai debiti è anche in una condizione psicologica, forse non sempre molto lucida, viene attirato da mille specchietti delle allodole, mille promesse di cancellazione dei debiti, non è la prima volta che si trova nella condizione di aver pagato quello che pensava un professionista in grado di cancellargli effettivamente il suo debito sulle promesse e poi invece si trova ad aver pagato il professionista e quindi avere ancora tutti i suoi debiti esattamente come prima. Quindi la procedura di una persona che è oberata dei debiti qual è? Quella di contattare, se non lo capite male, un OCC? La persona che si trova, innanzitutto devo dire che le persone che noi incontriamo e in questi ultimi tre anni, noi operiamo dal 2017, abbiamo incontrato più di 4.000 persone presso i nostri organismi di composizione della crisi, perché Protezione Sociale Italiana opera per mezzo di organismi di composizione della crisi accreditati nei diversi tribunali, tra i quali ad esempio Brescia, il Tribunale di Brescia. Allora il debitore che veramente è alla ricerca di qualunque notizia utile per risolvere la propria situazione e può scegliere tra centinaia di professionisti, società che offrono e promettono Mario e Monti può subire, può andare in confusione. Invece per trovare la fonte corretta deve rivolgersi a chi? Se io sono in crisi mi rivolgo all'organismo di composizione della crisi. Ecco diciamo che è un ente istituito dalla legge. L'organismo di composizione della crisi è un ente istituito dalla legge per dare una mano alla cancelleria e dei tribunali, perché se la fallimentare è la sezione competente del tribunale, immaginiamo se la cancelleria fallimentare dovesse occuparsi anche dei fallimenti delle persone fisiche, il tribunale scompierebbe. Allora ecco che il legislatore ha voluto istituire la figura dell'organismo di composizione della crisi affinché proprio aiuti, sostenga la cancelleria del tribunale filtrando tutte quelle che sono le domande di accesso alla legge, valutando quelle che possono accedere e chi invece non può accedere, nominando il gestore in maniera tale che poi la cancelleria e il giudice siano impegnati soltanto ad leggere la relazione giurata del gestore della crisi e ad aprire la procedura. Quindi sostanzialmente il debitore, io debitore vengo direttamente all'OCC, ho bisogno di portarmi il mio avvocato? Assolutamente no, il debitore può rivolgersi direttamente all'organismo di composizione della crisi, questo non significa io da avvocato che dovete diffidare dei vostri legali, non dico assolutamente questo, io che magari ci sono alcune persone, alcune aziende che non vengono assistiti da un avvocato perché magari in questo periodo anche i 10 euro fanno la differenza, allora a queste persone dico non vi preoccupate potete accedere all'organismo anche senza l'assistenza di un avvocato e quindi dialogare direttamente con l'organismo di composizione della crisi che insieme a voi valuterà la vostra situazione, vi dirà se potete accedere o non accedere alla legge, quelli che sono i debiti che potete legittimamente stralciare quello che invece dovrete pagare e poi insieme a voi redigerà quella che è la proposta di uscita dalla crisi. Esatto, questo primo approccio è con l'ufficio dell'organismo di composizione della crisi OCC in sigla che quindi mi dà una prima informazione, cioè io da lì posso capire se posso accedere, se ho i requisiti, perché non tutti possono accedere alla legge 3. non tutti possono accedere alla legge 3 del 2012 e soprattutto la legge 3 del 2012 dà tre vie d'uscita e magari una via d'uscita non è ritenuta soddisfacente per il debitore e quindi l'organismo di composizione della crisi ha il dovere di dire esattamente al debitore come stanno le cose e quale degli strumenti può utilizzare in maniera terra è che il debitore sa bene che qualora decida di accedere alla legge 3 del 2012 quello che l'organismo gli dice è quello che realmente accadrà e quindi ha la sicurezza di intraprendere una strada che porta a un determinato risultato. Perché essendo l'ente previsto appunto dal legislatore della legge 3 è l'unico in grado di dire sì puoi accedere e a quel punto parte l'iter. Diciamo che tutti possono dire puoi accedere, anche il mio amico con cui mi guardo le partite che magari capisce un po' di diritto potrebbe anche dire a un debitore sì puoi accedere alla legge 3 del 2012, tutti lo possiamo dire, bisogna capire però poi chi ha la responsabilità penale di quello che dice e quello ce l'ha l'organismo di composizione della crisi e il gestore della crisi che si assume la responsabilità penale di quello che dice anche perché va ad attestare una relazione su cui poi il giudice è chiamato a pronunciarsi. Ecco prima nota dolente, debitore visto che arriva a rivolgersi all'OCC è chiaro che sarà in una condizione dove deve recuperare veramente quello che ha detto lei i 10 euro dalla tasca, quanto mi costa questo primo step? Allora, innanzitutto l'organismo di composizione della crisi, ma tutti gli organismi sono a disposizione del debitore, che significa che il debitore può fissare un appuntamento presso la segreteria e avrà tutte le informazioni gratuite su quello che può fare, che non può fare e quindi questa informazione è assolutamente gratuita. Quindi se io posso accedere o meno mi viene detto gratuitamente? Ma deve essere detto, noi siamo qui, noi il nostro organismo di composizione della crisi, come quegli altri organismi di composizione della crisi, sono apposta sul territorio proprio per fornire gratuitamente tutte le informazioni e per guidare i clienti nel mare in tempesta, per dare la giusta bussola. Quindi questa informazione è certamente assolutamente gratuita. Se il soggetto poi decide di accedere alla legge 3 del 2012, in questo caso l'organismo farà un preventivo di quelli che sono le spese e i costi. Preventivo che viene fatto secondo un tariffario ministeriale che è pubblico. Naturalmente tutti gli organismi di composizione della crisi, per venire proprio incontro al debitore, cosa diranno? Diranno, questo è il preventivo dei costi e delle spese, col massimo sconto possibile. Di questo preventivo dimmi tu quello che riesci a pagare, quello che riesci a pagare bene. Il resto che non riesci a pagare andrà in prededuzione. Significa che poi l'organismo li riprenderà dopo, una volta che la pratica è stata omologata, da quello che è l'importo che poi sarà calcolato dal gestore della crisi per pagare una parte dei creditori. Quindi, ripeto, anche sotto questo punto di vista, gli organismi vanno incontro ai clienti applicando il meccanismo della prededuzione. Cioè direi tu non pagare, paga quello che riesci adesso, il resto me lo prenderò io da quelle che saranno l'importo che determinerò a favore dei creditori. Al termine della procedura. Quanto dura la procedura? Ma le procedure, ci sono tre procedure, il pieno del consumatore, l'accordo e la liquidazione del patrimonio. Diciamo che mediamente la procedura dura, facciamo una media, 4 anni. Mi riferisco soprattutto a quella della liquidazione del patrimonio, che è la procedura maggiormente applicata. Quindi al termine dei 4 anni io otterrò l'esdebitazione. Cioè dire, mi verranno cancellati tutti i debiti che naturalmente non sono riuscito a pagare e mi verranno cancellate tutte le segnalazioni in CRIF e nella centrale rischi. In maniera tale che poi io, passati 4 anni, possa nuovamente accedere al credito, ove possibile e quindi ripartire da capo. Ma queste vengono veramente cancellate oppure la CRIF ha una sorta, le banche hanno una sorta di memoria, come succede spesso nel saldo stralcio, che dicono sì, bene, tu e io ho ottenuto il mio debito, abbiamo fatto l'accordo, però poi in CRIF rimane la costilla. No, no, in CRIF non rimane, magari la prossima volta faremo un'altra puntata, perché credo che siano stati uno dei primi organismi di composizione della crisi su Pavia ad ottenere già il provvedimento di esdebitazione. Cioè dire, il giudice, sono passati 4 anni, il giudice ha emesso già il provvedimento di esdebitazione, dove proprio ha ordinato la cancellazione delle sofferenze in tutte le centrali. La fermo un attimo, due minuti di pubblicità e poi torniamo perché c'è già, noi abbiamo parlato appunto della legge 3 fino al punto in cui non l'ho interrotta perché lì volevo arrivare sul discorso di liquidazione del patrimonio e c'è invece una novità che è stata inserita nel Decreto Relancio. Due minuti e torniamo a sette e mezzo. Grazie. E riecoci a sette e mezzo con l'Avvocato Lettiero Stracuzzi di Protezione Sociale Italiana. Stiamo parlando della legge 3 e di tutto quello che comporta appunto questa legge sul sovraindebitamento, procedura per il debitore per sdebitarsi e lasciare alle spalle appunto i propri debiti. Ma c'è qualche distinzione, non l'ho chiesto prima, riguardo al debitore, nel senso che c'è anche una valutazione su come sono stati creati questi debiti oppure se ha fatto un po' il furbo, ha fatto un po' il bandito, esce lo stesso e lo posso fare oppure no? La legge naturalmente mira a premiare le condotte leali delle centinaia di migliaia di persone che si sono indebitate per causa sicuramente a loro non imputabili. Quindi la legge non mira a premiare il cosiddetto furbetto e gli organismi di composizione della crisi sono proprio chiamati a valutare la condotta e la meritevolezza del soggetto. Ecco perché durante quegli incontri iniziali che si fa con l'organismo di composizione della crisi, proprio l'organismo, una delle prime informazioni e delle prime ricerche che va a fare è quello relativo alla condotta del debitore. Cioè che condotta ha tenuto il debitore? Cioè se sono stato spregiudicato? Se sei stato naturalmente spregiudicato, se hai fatto atti in frode ai creditori, eccetera, 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 è chiaro che tu da una parte ti indebitavi, ma dall'altro lato cercavi di sottrarre dei beni ai creditori. Allora in questo caso certamente non puoi accedere alla legge 3 del 2012 e non puoi ottenere il beneficio dell'esdebitazione. È chiaro, è chiaro. Dicevamo quando abbiamo detto nella procedura poco fa lei ha detto una delle procedure quella di liquidazione del patrimonio, quindi significa comunque io qualcosa per chiedere che vengano cancellati tutti i miei debiti, quindi devo proporre, devo mettere sul piatto, devo offrire al tribunale di competenza. Io non riesco più a pagare i miei debiti, però ho una macchina, ho un mini appartamento, ho una villa. Cioè questa però la si mette in discussione, questa parte come si vuol dire. È chiaro che quando si parla di liquidazione del patrimonio, il patrimonio deve essere rappresentato da qualcosa, da un bene mobile, da un bene immobile, ma qualcosa comunque da una parte dello stipendio o del reddito del nucleo familiare che cede quelle che sono le spese necessarie al mantenimento della famiglia, quel qualcosa doveva necessariamente essere offerto ai creditori per ottenere il beneficio dell'esdebitazione e quindi per poter accedere alla legge 3 del 2012. Quindi io dovevo avere comunque una parte del mio stipendio che dovevo dire questa invece che utilizzarla come risparmio, utilizzarla come tempo libero, la metto a disposizione per restituire qualcosa. Io un qualcosa, una somma comunque la dovevo mettere a disposizione. Quindi io dovevo essere in grado, utilizziamo un'altra volta un termine leggermente più tecnico, io per accedere alla liquidazione del patrimonio dovevo essere in grado di mettere a disposizione dei creditori un'utilità di qualsiasi genere o presente o futura, perché la liquidazione del patrimonio dura 4 anni. Quindi se magari io tra due anni eredito o se tra due anni vinco quella causa che ho in corso, quello dovevo necessariamente mettere a disposizione della procedura. Quindi un'utilità o presente o futura doveva sempre essere messa a disposizione dal debitore per poter accedere alla legge 3 del 2012. E questo era un altro compito di verifica dell'OCC? Assolutamente sì, perché l'organismo è proprio questo, quello anche di andare a ricostruire quello che è l'attivo o il patrimonio del debitore da mettere a disposizione dei creditori. C'è però una grandissima novità nel decreto rilancio. In questo periodo di Covid, in questi mesi di Covid, probabilmente il legislatore ha capito che la situazione è ulteriormente aggravata, perché se prima c'era un numero tale di persone che avrebbero potuto accedere, probabilmente per come stanno andando le cose in economia purtroppo il numero e la platea di possibili attori che possono accedere alla legge 3 rischia di allargarsi ulteriormente. Quindi ha previsto un upgrade? Sì, allora il decreto ristori di recente ha apportato alcune modifiche alla legge 3 del 2012. Modifiche che cercano di aiutare ancora di più le famiglie e le imprese a risolvere il problema dei debiti. E quando parlo di problema dei debiti mi riferisco a tutti o a qualunque tipologia di debito. Diciamo che in questo momento l'attenzione nei media si è focalizzato più sulla ripartenza nuovamente delle cartelle esattoriali, 51 milioni di cartelle esattoriali previste, che invece su quest'altra norma, che è uno strumento innovativo e rivoluzionario. Qual è? È l'esdebitazione dell'incapiente. Cerchiamo di intenderci. Innanzitutto che cos'è e chi è o chi rientra nella figura o nella nozione di debitore incapiente. Il debitore incapiente è la persona fisica che non possiede alcun bene mobile o immobile e alcun reddito o possiede soltanto un reddito che è appena sufficiente per mantenere la propria famiglia. Quindi si tratta di una persona che non può offrire alcuna utilità ai creditori per pagare i debiti. Ebbene, da oggi anche il debitore incapiente ha diritto di accedere alla legge 3 del 2012 e di ottenere una sola volta nella vita la cancellazione di tutti i debiti senza pagare un euro a favore dei creditori. Si tratta di uno strumento rivoluzionario e di una portata sociale incredibile. Se prima infatti, come avevamo detto, il debitore per poter accedere alla legge 3 del 2012 doveva sempre e comunque mettere sul piatto qualcosa, adesso il debitore può cancellare tutti i debiti senza pagare assolutamente un euro. Quindi è veramente rivoluzionario. E la procedura è la stessa, quindi si passa sempre dal tribunale ed c'è sempre un omologo del giudice. La procedura è la stessa, si passa sempre dal tribunale, quindi si passa sempre dall'organismo di composizione della crisi che farà una relazione in cui dirà il soggetto non ha alcun bene mobile o alcun reddito oppure quel reddito che ha è appena sufficiente per mantenere la propria famiglia di conseguenza il proprio patrimonio di conseguenza accede all'esdebitazione dell'incapiente e quindi ha diritto a cancellare tutti i debiti e relative segnalazioni a sofferenza in CRIF e in centrale rischi senza pagare un euro in favore dei creditori. Quindi questa... Avrete secondo me un lavoro pazzesco nei prossimi mesi perché se già... è solamente una questione che il cittadino ne abbia coscienza perché credo che non si conosca. No, non credo, non si conosce ancora questa opportunità, ancora si sente parlare in televisione di saldo estralcio eccetera eccetera ma qui non c'è più un saldo estralcio. Qui c'è... io non pago, non mi devo neanche sbattere la testa a chiedere soldi in giro ai parenti per fare un saldo estralcio con una finanziaria, l'agenzia delle entrate o... No, io devo semplicemente accedere alla legge 3 del 2012 e dire sono incapiente. Ho diritto che mi vengono cancellati tutti quelli che sono i debiti. E credetemi, le società finanziarie veramente... Gli stanno tremando i polsi. Qui si apre tutta una problematica perché ad esempio tutte le aziende che avevano acquistato quei famosi crediti deteriorati per poi andare a rivalersi sui debitori che difficilmente potevano pagare comunque ne avrebbero pagate una parte ma una parte faceva parte del loro guadagno di queste aziende e penso che questo sia un colpo di spugna che nei prossimi mesi probabilmente vedremo effetti. Ma adesso, ieri c'è stato un articolo su Repubblica in cui se ne sta iniziando già a parlare. Io che ogni mercoledì sono su Radio Reporter ne parlo, già dalla scorsa settimana ho iniziato a parlare. Tra l'altro vorrei proprio fare un esempio concreto di una signora che si è rivolta a noi perché avevo un appuntamento... Adesso noi con la signora ci chattiamo e ormai abbiamo un rapporto quasi ormai personale e avevo un appuntamento con una nota società finanziaria perché lei faceva l'estetista a causa del Covid ha smesso praticamente di lavorare. Quindi non può più lavorare e è tornata a vivere con la mamma, la mamma l'aiuta a vivere e prima aveva un finanziamento per 30.000 euro, adesso non lo riesce a pagare. È stata durante questo periodo di Covid che la finanziaria ha sempre chiamato, chiamato, addirittura ha chiamato anche i vicini di casa per metterle in soggezione, ha fissato un appuntamento e la signora ha detto, avvocato ma io come mi devo comportare? Perché mia mamma non riesce a prestarmi soldi perché dobbiamo mangiare per pagare le rate della finanziaria. Loro mi hanno proposto 70 cambiali che scadono da qui... Esatto, 70 mesi. In 70 mesi, ma io come faccio? Ho detto, signora guardi, glielo dico bene, domani quando andrà all'incontro che era ieri dica semplicemente, io ho deciso di esercitare il mio diritto ad una vita libera dai debiti, andrò ad accedere alla legge 3 del 2012, l'esdebitazione dell'incapiente e quindi non firmo alcuna cambiale, non firmo nulla, il mio debito sarà cancellato. E naturalmente la risposta della finanziaria è stata... Faccio come vuole, immagino l'abbè detto, faccio come vuole e vediamo come va, perché sperando che nel suo caso non si possa fare... No, anzi, poi faremo un commento, no, gli hanno detto, no, no, la legge 3 non esiste, signora, ma cosa gli hanno detto? La legge 3 del 2012 non esiste. Beh, in realtà non esiste, è vero che viene scarsamente applicata, ma diciamo che sui tribunali del Nord Italia circa 10.000 provvedimenti, insomma, sono già stati emessi nei tribunali del Nord Italia. La cosa importante è che sia un qualcosa di legale, è omologato dal tribunale, per cui non si cade dalla padella alla braccia sostanzialmente. Assolutamente, assolutamente sì, è una cosa di legale, è una cosa che incoraggio tutti a tutti i debitori che si trovano, che sono le persone più deboli, che si trovano in una situazione... Sì, c'è anche una componente psicologica, come dicevamo prima, poi è chiaro che chi è in questa condizione, come diceva, vanno addirittura dei vicini, vanno dei genitori, cioè quindi è chiaro che la persona cade in un contesto psicologico dove non è neanche lucidissima poi per prendere delle decisioni spesso. È assolutamente, è una persona debole, fragile, che si vergogna e che non si spiega come si è potuta trovare in questa situazione. Ma le disgrazie, la sfortuna esiste. Tutti noi non siamo immuni da... Allora, io ne approfitto per far vedere il sito della protezione sociale italiana, di cui l'Avvocato Straguzzi è presidente. Eccolo qui, trovate anche la chat in basso a destra. Adesso non si vede, però potete appuntamentare il vostro nome e indirizzo mail, oppure iniziare a contattarvi. Sì, perché guardi, le deposite la verità è che il servizio chat sta riscuotendo un enorme successo, ma lo immaginavamo perché la gente naturalmente ha anche un po' vergogna e quindi fa fatica anche a chiamarci, mentre invece... E così non si deve esporre direttamente. E così non si deve esporre, tramite le chat noi rispondiamo in tempo reale, dando informazioni, dando spiegazioni e così le persone si possono anche sfocare e raccontarci un po' i loro problemi. Bene, grazie. Allora, vedremo male di rivederci più avanti tra qualche settimana per vedere come sta andando questa seconda parte, così, evoluzione della legge 3. Grazie all'Avvocato Straguzzi, grazie a voi per essere stati con noi stasera. Ci vediamo domani, 7 e mezzo, come sempre. Buona serata. Grazie a tutti.